Genova 2011, festival della scienza, l'INAF guarda al futuro e lo fa affidando ai suoi ricercatori e alle sue ricercatrici più giovani il confronto con il pubblico, introdotti e moderati per l'occasione da Alessandro Cecchi Paone. Identikit di quattro giovani ricercatori italiani di successo, nome e cognome, numero di matricola. Vinto Sguera, Binari X, Grande Massa, questa è la mia specializzazione. Cosa hai vinto fino adesso in termini di riconoscimenti internazionali scientifici? Ho vinto la medaglia Zeldovich e rilasciata ogni due anni dall'Accademia Russa delle Scienze, un premio per ricercatori Under 35. Allora io ho vinto il premio Gioso che è il premio della Joint Organization for Solar Observation due anni fa, è un premio che viene assegnato praticamente al miglior lavoro pubblicato dai giovani ricercatori in fisica solare Under 35. Quindi come si dice in sintesi e apparentemente in maniera paradossale lui è uno che fa luce sul sole, tu invece fai luce dove luce proprio non c'è perché è un grande esperto di buchi neri, addirittura di buchi neri primordiali. Io mi chiamo Nico Cappelluti, ho vinto il premio Marsden e in questo momento mi sto occupando di dove sono i famosi barioni mancanti. Quando li trovi faccelo sapere. Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana, lei ha avuto questo riconoscimento direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica napolitano. Per che cosa? Per quali tipi di lavori? La motivazione ufficiale recita per brillanti risultati scientifici che la vedono a capo di un gruppo di ricerca all'Osservatorio di Trieste. Tu in realtà fai la cosmologa? Io faccio la cosmologa. E ci confermi che è tutto in movimento in questa fase dell'astrofisica? Tutto, tutto è un casino. Adesso poi abbiamo anche i neutrini più veloci della luce. L'astronomo sa leggere il futuro. Questo è il titolo dell'incontro del 24 ottobre che ha avuto un successo oltre ogni attesa, specialmente fra gli studenti che hanno letteralmente preso da salto i quattro astrofisici con domande e richieste d'autografi. È la prova che quando invece si portano ai ragazzi dei loro coetanei un po' più grandi che hanno avuto successo nei campi più avanzati del sapere, esplode l'entusiasmo e c'è una specie di reazione come di fronte ai divi del pop e del rock. Diciamo che non avevo mai assistito a una conferenza così interessante, quindi ho trovato giusto complimentarmi con i relatori. Poche ore più tardi, a Palazzo Ducale, il presidente dell'INAF, Giovanni Bignami, moderato dal giornalista scientifico Fabio Pagan, ha letteralmente riempito la sala del maggior consiglio con Cosa resta da scoprire, una lezione magistralis sulla scienza e la tecnologia che ci attendono. Ed è ancora protagonista il futuro anche alla mostra INAF Astrofisica 2161, un percorso spazio-temporale di 300 anni dai tempi dell'Unità d'Italia al XXII secolo, con pannelli che si attivano automaticamente al passaggio dei visitatori, proponendo immaginari telegiornali astrofisici dal 1861 ad oggi e avanti fino al 2161, perché l'astrofisica che ci resta da scoprire è tanta e la stiamo costruendo giorno per giorno.